Momenti bui per l'economia lariana, segnali di rallentamento si registrano per il comparto manifatturiero Comasco, in particolare per l'artigianato. Dati positivi invece per commercio e servizi. Emerge dall'analisi congiunturale del primo trimestre 2019 della Camera di Commercio di Comelecco. La provincia di Como nel settore industriale evidenzia cali della produzione del fatturato, mentre crescono gli ordini. Nei primi tre mesi di quest'anno l'indice medio della produzione industriale Comasca si è attestato a 97,8% contro il 111,4% Lombardo. Solo tessile e meccanica evidenziano una leggera crescita della produzione rispetto ai primi tre mesi del 2018. L'occupazione industriale a Como è aumentata dello 0,3%, frenata nell'artigianato, in provincia la produzione e il fatturato calano dello 0,2% ciascuno, mentre a differenza dell'industria gli ordini diminuiscono di quasi due punti percentuali. Solo i settori dell'abbigliamento e della meccanica mostrano una crescita della produzione, mentre i comparti più in difficoltà sono quelli carta stampa e legno mobilio. Segnali positivi invece sia nel commercio che nei servizi. Il territorio comasco evidenzia crescite significative nel volume d'affari, più 11,4% per il commercio e più 8,3% per i servizi. Secondo i dati elaborati dall'ufficio studi e statistica della Camera di Commercio aumentano le ore di cassa integrazione sul territorio, tra come l'eco la crescita è del 32,8%, cala inoltre il numero di imprese registrate, meno 300 unità a fine marzo 2019. Non si vede la luce in fondo al tunnel per il secondo trimestre di quest'anno nel settore dell'artigianato, dove peggiorano le aspettative degli imprenditori.